ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il parafarmaco pentaciclina olio a cosa serve pentaciclina olio ha un parafarmaco appartenente alla categoria degli detergenti corpo non schiumogeni è commercializzato in italia dall'azienda pentamedical srl informazioni commerciali titolare pentamedical srl concessionario pentamedical srl categoria di appartenenza detergenti corpo non schiumogeni confezioni pentaciclina olio olio detergente per idratazione pelli secche e barra o sensibili 200 ml indicazioni olio detergente ad intensazione lenitiva idratante utile in tutti i casi in cui la cute di adulti e bambini necessita di processi lenitivi a causa di secchezze arrossamenti ed esquamazioni studiato espressamente per il trattamento di pelli secche aree delicate pelli arrossate la sua composizione ha come base lavante acidi grassi sebo simili la detersione avviene solubilizzando il sebo in eccesso presente sulla pelle senza per a intaccare il mantello idrolipidico modalità d'uso utilizzare il prodotto come un normale detergente bagno doccia il prodotto non contenendo tensioattivi non produce molta schiuma componenti e ingredienti acqua peg 6 caprilic barra capri glicerides ammonium lauril sulfate peg 7 gliceril cocoate glicerine coca mido propil betaine di sodium coquan fo di acetate sodium laureate sulfate fenoxietanol e che un plantaginium sedo il sodium cloride cardiosper monali cacabon flower barra leat barra vina extract parfum propilene glicol benzil alcol peg 50 shea butter etilparaben metilparaben propilparaben butilparaben deidrocetic acid limonene linalol fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo paratarmaco esaminato